Mi chiamo Maria Cristina e da sempre sono appassionata di scarpe e di borse. Questa passione mi ha accompagnata per oltre, ahimè, 40 anni nel mondo della moda, collaborando con marchi prestigiosi che mi hanno permesso di approfondire la conoscenza dei processi legati alla costruzione dei prodotti. Io penso che la creatività non si esprima solo nel saper disegnare o costruire un prodotto, ma è anche capacità di impostare l'intero processo che precede queste fasi, comprendendo l'analisi del mercato, la creazione di un brand e la comprensione del consumatore il cui stile di vita si riflette nei valori del brand. Studiare alla scuola rossotoria offre un grande vantaggio e qui la creatività è intesa a 360 gradi. Quando analizziamo le tendenze per le prossime stagioni consideriamo diversi elementi. Le tendenze infatti emergono osservando e partecipando non solo a eventi legati al mondo della moda, ma anche a quelli della musica, dell'arte e del design. Noi trasmettiamo un metodo che permette di percepire e interpretare il trend del mercato in modo decisamente efficace. Vi invitiamo ad unirvi a noi nei corsi designer su Toria, dove vi aspetta un'esperienza formativa unica e stimolante. Grazie a tutti!